Oggi è stato firmato un accordo tra dieci società scientifiche e federanziani, con quali obiettivi? Con l'obiettivo di mettere insieme molte discipline per un fine comune, quello di migliorare la qualità di vita e gli standard di cura dei pazienti anziani in uno specifico e solo lavorando assieme nel campo delle varie specialità, quindi di ferestità ma unità anche, si può pensare ad avere un progetto che stia in piedi, se no le singole forze non sono sufficienti per sviluppare un progetto così vasto. Il primo item, la prima voce dell'argomento sarà il problema dell'aderenza alla terapia, che è un problema centrale, perché ovviamente un farmaco non funziona se non si mangia. Ecco, in questo senso, proprio per l'aderenza alla terapia, cosa si può fare? Si possono fare tantissime cose a tantissimi livelli, educare il paziente da una parte, educare la famiglia dall'altra, educare il medico anche a prescrivere meglio, perché ad esempio è noto a tutti che più pillole do, meno è minore l'aderenza, quindi più a dare pillole che servono e non quelle che possono essere non del tutto necessarie, imparare anche a rispettare la voglia dei pazienti, interessi del paziente, il paziente, so, preferisce le gocce più a usare la compressa, è stupido dargli la compressa a parità di indicazione, perché la volontà del paziente è parte integrante, è un processo di condivisione alla terapia, se stiamo con un modello per cui il medico è da una parte che prescrive l'unico attore e il paziente è quello che assume passivamente le cure, siamo fuori dal mondo, la realtà è un'altra, ed è quello di un attore di pari dignità, un coattore, e quindi da ascoltare il paziente, evitare anche a livello sociale e di sistema sanitario interventi aggressivi tipo ticket o altre cose, perché tutta la letteratura documenta ormai che più si fanno interventi per ridurre la spesa farmaceutica, alla fine si aumentano i ricoveri, perché il paziente non piene le cure. L'anziano è una fascia più debole per definizione e purtroppo ha mediamente meno standard di cura, meno qualità di cura e meno possibilità di cura che non la porzione più giovane, perché in molti sistemi sanitari, Italia compreso, oltre a certe età gli interventi sono più problematici o perlomeno non c'è una base di risettività sufficiente. Grazie. Grazie.